Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo Vlogmas! Oggi vi faccio l'intro per strada perché sto andando a prendere delle cose utili per una cosa che adesso vedrete. Sono venuta qui perché sto cercando tutte le cose che mi servono per finire casa. Lara in questo momento è a danza e le sto facendo un'altra sorpresa perché appena esce vedrà che ho comprato un sacco di cose appunto che ci servono per fare il presepe oggi e sistemare tutto il resto della casa, ma nei prossimi giorni ci sistemiamo con tutto tutto tutto, però intanto sto scegliendo lo scotch. Penso che prenderò uno di questi. Intanto ho preso questo, la neve spray. Per adesso ho trovato queste cose, mi dovrò un po' ingegnare. Non c'hanno tutto. Sono uscita quasi vincitrice, quasi soddisfatta. In realtà ci sono un sacco di altre cose che volevo, ma non le ho trovate. Comunque scusate i capelli, sono uscita dalla doccia e uscita di casa. Me li sono asciugati veramente male e veramente di fretta. E questo è il risultato. Volevo essere un pochino più carina per i vlogmas, però è vita reale. Quindi sì, mi capita di uscire struccata e con questi capelli. Comunque corro che devo prendere la bimba da danza. E vediamo se con quello che ho comprato riusciremo a fare una bella cosa. Io spero. Non ne sono così convinta, però spero. E' proprio bello il nostro. Sono appena rientrata a casa e guardate che carino. Abbiamo fatto la stesa e anche le buste sono... Ma c'è... Ah no, pensavo ci fosse il mio indirizzo di casa. Guardate che carino! Ah, le bustine! Sono tutte i Natalizi! E' arrivato proprio il Natale, ovvio, oddio che bello! Comunque, allora mostro al signor... Ah sì, abbiamo ancora questo per ieri che abbiamo rifatto il cosa a Lara, vabbè. Comunque, allora mostro al mio amore quello che ho preso. Adesso lo mostro anche a Lara, sta di là, sta sul lettino, non ve la faccio vedere. Scoccio, vero? Ma non mi guarda! Ho trovato il preserve dell'anno scorso. Adesso io e Lara ci ingegneremo per come metterlo a posto e come fare. Vero piccola? Sì! Devo dire che adesso siamo pronte! Fammi sentire come fai Dream! Abbiamo deciso che come angolo sfrutteremo questo. Adesso vi faccio vedere. Sei pronta? Vi prego di non guardare il casino che c'è in giro per la casa. Siamo ancora in fase di restrutturazione. Questo l'abbiamo svuotato. Cinco bellos, cinco bellos, cinco bellos, right? Sì. Allora, sei pronta a posizionare tutto? Sì. Muschio. Muschio. Quindi devi prenderlo e forzionarlo tipo il sale. Qui, anche dal lato? Sì, un po' da per tutto. Oggi non farlo cadere per terra, mammi. Brava, sì, sparpaglialo bene, bene ovunque. Brava. Bravissima. Io mi sono giocata a sta coperta ormai. Brava! Brava, vissi! Brava, vissi! È arrivato anche il piccolo aiutante di Babbo Natale. È anche una reina. Oh, mi si è appoggiato, oddio. Oh mio Dio. Avete visto? Odora anche di muschio, ha questo inconfondibile odore di muschio. Va a vedere che ho comprato un muschio vero e non muschio finto, eh. Qua mettiamo la cassetta. Eccola! Meno male! Abbiamo la stella. La mettiamo appesa qui? Questo e questo devono stare qua. Maria e Giuseppe, uno di qua. Maria e Giuseppe. Uno di qua e uno di qua. Raga, non riesco ad aprire questo nastro adesivo. È impossibile ad aprire. Ma che pifferetto però? Ah, tu c'hai le mini manine. Le mini manine hanno funzionato. Ma metti la più giù, almeno se... E allora la metto proprio qua sopra. Eh, sì. Ok. Ha scelto Lara e va bene. E adesso proviamo a... A spruzzare la neve. Sei pronta? Sì. 3, 2, 1... Mi ricavano un sacco. Spero che non mi rovinerà... Immobile. Ma povera... Povera Maria. Povera Maria. Devi spruzzare la faccia. Eh, sì. Ok. Devo ammettere che mi sono divertita parecchio. Ah, qua manca. Ok. Mi sta riprendendo Lara in questo momento. Spengo l'albero di Natale perché, raga... Metti... Metti... Non so, vai più indietro? Sì. Wow. Che carina. Oddio. Che bella. Guardate che bello Lara però. Guardate mamma. Quanto è precisa qui. È bella? È effettivamente... Puzza. Sì, puzza un po'. Guardate. Ah, ma... Anche la punta. È figo. Ah, pure sulla punta la neve? Sì. Ecco, così è proprio come se avesse nevicato anche in casa. Beh, devo dire che fa il suo effetto. Carino. Molto carino. Perché non la abbiamo ancora? Però... Io apro le finestre perché... Pussa, pussa, che pussa. Ok. Allora, stavamo andando a spruzzarla in camera sua, ma mi è venuta un'idea. Adesso ho anche la mia pianta, eh. È diventata la mia. Sì, amore. Allora, dato che qui hai il tuo arvenello bello... Aspetta, spegniamo un attimo le tue lucine. Ok. Vai, prova a spruzzare tu. Allora. Molto lontana da questa parte, vai. Vai. Ok, la situazione mi sta sfuggendo di mano. Lara, penso che sto per fare la cosa che forse non dovevo fare. Che le dici? No. E io no. Lara vuole che gli faccia una stella in camera sua, di neve, quindi vediamo un po' se riesco. Se non riesco fa niente, vero? Ok. Ecco, iniziamo malissimo. Ce l'ha un po' da stella? Va bene, allora. Voi mi vedete? Va bene. Questo è l'albero. E poi io ti passo vedere. Il pupazzo di neve si è trasfumato in Peppa Pig, però... Che bella cosa. È di tuo gradimento? Eh, sì. Niente. Nulla. Questa cosa mi sta sfuggendo di mano. Penso di aver bisogno di un aiuto. Abbiamo appeso questo e... questo. E adesso? Riprendi, mammina, che si va ad ammassare. Non ti, non ti ammazzi, tranquilla. Eh, ogni sedia di mamma. Mamma, mi posso sedere? Mamma, mi chiedo, però tanto ti vedono. Oh mio Dio! Vado a mettere la lepre. Ok. Non per dirvi niente, ma un pollice in su solo per la camera. Io sono del cameraman. Ciao, cameraman. Sapete, io penso veramente di avere un pro... Lara? Io penso davvero di avere un problema con... Ce l'ho tutta su un dito. Guardate. Sono fatto i piedi. Guardate che precisione, guardate. Faccia soddisfatta. Ah, quella è una faccia soddisfatta? Beh, bellissima faccia soddisfatta. Sono molto tentata. Quindi, ricapitolando. Qui tutto questo è stato fatto. Qui tutto questo è stato... Ah no. Qui tutto questo è stato fatto. Qui tutto questo è stato fatto. Quali altre avventure ci aspettano? Non ce lo sapevo, ma qualunque esse siano, saranno fabolose. Sì. Buon appetito. Grazie a tutti.